Lo ringrazio intanto perché mi dà l'opportunità di battezzare questo mio ingresso nel mondo ambientalista alla presidenza del WWF in questa giornata così particolare e di incontrare anche alcuni dei miei compagni di viaggio del futuro prossimo perché credo che veramente sia arrivato il momento di provare a imprimere un'accelerazione in una serie di processi. Io vengo dal mondo della comunicazione, molte delle persone che mi hanno chiamato per farmi gli auguri mi hanno chiesto ma come farai, come sarà possibile conciliare questo tuo impegno con la tua professione? Io ho risposto a tutti loro che intanto quella del giornalismo è la mia professione ed è il lavoro che mi dà da vivere quindi lo proteggerò, lo tutelerò naturalmente da qualunque altra minaccia ma che come ho sempre fatto con il mio lavoro cercherò di essere onesta, obiettiva, super partes, di raccontare una realtà, certo sposando cause inevitabilmente, questo la presidenza del WWF mi costringerà a fare ma a poche settimane dalla mia nomina io non sono qui certamente per sottoporvi un intervento tecnico, me ne guarderei bene insomma soprattutto alla presenza di persone che mi hanno preceduto e che sono molto più competenti, preparati di me in tutta una serie di materie perché le hanno vissute anche sulla loro pelle, oltre che analizzate e studiate se parliamo di tutti i tecnici qui presenti. Quindi farò un intervento un po' di pancia se vogliamo e parto dalla considerazione che ha fatto il moderatore all'inizio di questo nostro giro di interventi e sarò anche brevissima così perlomeno vi rassicuro immediatamente. La prima attiene all'importanza dei dati e allora se vi parlo da giornalista vi posso dire che per me sentire che più di 7 metri quadri al secondo si continuano a consumare in Italia è un dato che naturalmente mi interessa molto e che chiaramente posso spendere immediatamente in termini di comunicazione. Se parlo da Presidente del WWF invece non posso fare a meno di osservare che non è solo il lato in sé a preoccuparmi, quindi il dato complessivo, ma il costante trend di crescita degli ultimi 50 anni. È esattamente questo che mi spaventa ed è su questo che io provo a fare una prima riflessione. Questo solo per dirvi, per rappresentarvi quanto siano importanti questi dati sia per chi fa comunicazione, tristemente spesso non vengono riportati, magari soprattutto quando si tratta di buone notizie, ma ce n'è un gran bisogno. Io grazie al cielo ho la fortuna di fare una trasmissione che esce un po' esula dagli schemi tradizionali, quindi si può anche permettere il lusso ogni tanto di intervistare un ricercatore Ispra e fargli raccontare del suo progetto o trasferire dati. E vi posso garantire, anticipandovi che non vi parlerò di mare, per cui state tranquilli, anche se la tentazione è forte, che spesso e volentieri mi sono trovata di fronte a testimonianze che rappresentavano un punto zero di conoscenza, non tanto ovviamente dai tecnici Ispra, ma vagando nel mio girovagare spesso e volentieri mi sono ritrovata di fronte alla mancanza di dati. Allora benvenga Ispra e davvero un grazie di cuore al presidente di Ispra per questo suo coraggio, per questa sua voglia di condividere, di trasferire. Io credo, poi magari mi smentiranno i fatti nel tempo, che una grande risorsa sia quella della citizen science, ovvero del coinvolgimento dei cittadini. Questa disponibilità, questa apertura, questo trasferimento di dati e di informazioni a un mondo che comunque è sempre più sensibile e attento, ma che ancora certamente va guidato, io trovo sia un passaggio importante. E vi faccio solo l'unico esempio marino. Poi smetto. Una interessantissima iniziativa dell'Università del Salento, si chiama Occhio alla Medusa, ha trasformato tutti i cittadini in osservatori. E sono state censite alcune specie di meduse, anche grazie a queste informazioni, al trasferimento di queste informazioni. E allora, accanto a questa importante, fondamentale attività dell'agenzia di Ispra, di raccolta informazioni, dati, di messa a sintesi e di messa a sistema, il fatto della trasparenza, della comunicazione oggi diventa prioritario. Così come lo è l'apertura a tutti noi che siamo qui oggi a confrontarci su dati importanti, su cui naturalmente tutti noi lavoreremo. Di quanto ho sentito questa mattina? Mi hanno colpito un paio di passaggi. Intanto che la maggior parte dei parametri ambientali che sono stati analizzati richiamano o potrebbero essere ricollegati al tema dell'espansione urbana. Una corretta gestione delle città, quindi mi sembra fondamentale, così come un contenimento significativo del consumo del suolo. E mi ricollego anche a quanto è stato già anticipato da chi mi ha preceduto. Però a questo proposito vedo che tra le regioni virtuose, infatti, di smaltimento di rifiuti, noi abbiamo per esempio la Lombardia e il Veneto, che sono esattamente le due regioni capofila per quanto riguarda il consumo del suolo, oltre il 10%. Allora mi domando, e forse appunto su questo cercherò di capire meglio, probabilmente anche in quegli ambiti che comunque sono dei modelli per alcuni aspetti, è il caso di continuare a lavorare per frenare altri comportamenti che sicuramente non sono sostenibili. La gestione delle aree urbane è chiaro che dipende anche dalle capacità economiche degli enti comunali e io credo sicuramente fortemente che la crisi economica e i tagli di spesa abbiano avuto riflessi devastanti su tutto il comparto ambientale. così come credo che l'elemento del consumo del suolo dia anche una cornice territoriale ai dati ambientali e indica un fattore un po' fuori controllo, anche se in un contesto di miglioramento di gestione e di maggiore efficienza, ma non ci aiuta a risolvere il problema. Sulla questione dei rifiuti invece non entrerò nel merito dello smaltimento della gestione, ma faccio solo una riflessione molto semplice, guardando ai consumatori e alla responsabilità quindi individuale e alla responsabilità sociale di impresa, perché credo che si debba anche lavorare in questa direzione, ridurre sicuramente la produzione dei rifiuti e lavorare poi su quello che è invece la produzione dei rifiuti, cercando di diminuire tutto questo impatto che naturalmente poi va a condizionare anche le risorse e le materie prime. Consumiamo più pianeta di quanto ne abbiamo a disposizione e quindi trovo che anche questi elementi, questi dati vadano considerati in questo senso e in questi termini. grazie davvero a De Bernardinis, al Presidente, per questo invito di oggi e spero nel mio piccolo e da ultima arrivata di aver dato un piccolo contributo. Grazie Donatella Bianchi, Presidente del WWF Italia. Adesso per chiudere l'intero incontro, oltre che la tavola, la parola a Bernardo De Bernardinis, Presidente di Ispa.